La pandemia ha lasciato inevitabilmente il segno anche sul mondo delle cooperative, ma non mancano segnali positivi e secondo l'indagine della Camera di Commercio si può guardare al futuro con ottimismo. Marco Bobbio. È stato un 2020 in chiaroscuro, quello vissuto dal mondo delle cooperative, perché a fronte di un calo di fatturato generalizzato e comune ad altre tipologie di imprese, alcuni segnali in contratendenza ci sono stati. E il bilancio che emerge dall'indagine annuale svolta dalla Camera di Commercio in collaborazione con Lega Coop e Conf Cooperative. Un settore, quello della cooperazione, che conta 42.000 addetti, oltre 1.200 realtà, circa lo 0,6% del totale delle imprese, per un valore della produzione complessivo di 2,6 miliardi di euro. A far guardare il bicchiere mezzo pieno è l'occupazione che ha tenuto nonostante la crisi, perché solo il 23% delle copa ha denunciato una riduzione degli addetti a fronte del 53% che ha risentito di una diminuzione del fatturato. Non tutti i settori poi hanno registrato difficoltà, anzi per alcuni, come la grande distribuzione, il 2020 è stato segnato da bilanci in positivo. Diverso il caso dei comparti più colpiti dalla pandemia, come turismo, sport e cultura, che ha chiuso con un meno 64%. Segnali positivi arrivano anche dagli investimenti, con un quarto degli interpellati che ha deciso di puntare su innovazione e impresa 4.0. Anche per questo le prospettive per il prossimo anno sono buone, visto che quasi il 60% guarda il 2021 con ottimismo.